Nel fine settimana sulla regione avremo ancora in quota l'affluenza di correnti piuttosto umide e fredde, mentre nei bassi strati prevarranno venti di bora più sostenuti sulla costa e anche però più secchi. Per quanto riguarda giornata di sabato, prevalenza di cielo coperto sui monti con la possibilità di qualche debole precipitazione locale. Per quanto riguarda pianura e costa, cielo in prevalenza nuvoloso con bora moderata un po' più sostenuta a Trieste. Temperature massime intorno ai 14-15 gradi sulla costa, 16 o 17 per quanto riguarda la pianura. Zero termico a 1600 metri circa. Per la giornata di domenica, ancora prevalenza di cielo coperto sui monti con la possibilità di qualche debole precipitazione locale, qualche spruzzata di neve oltre 1200 metri circa. Per quanto riguarda la pianura, cielo nuvoloso, più sole invece lungo la costa dove avremo variabilità con bora da moderata a sostenuta. Per l'inizio della prossima settimana il tempo andrà migliorando con cielo variabile nella giornata di lunedì, sereno poco nuvoloso martedì, con temperature che si avvicineranno di nuovo ai 20 gradi nei valori massimi. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA Un saluto da Marcellino Salvador.